Si è conclusa la prima parte delle gare ufficiali dei 34esimi giochi nazionali invernali Special Olympics a Sappada, nella Carnia, sulle Alpi Friulane, che riprenderanno nel 2023, nel mese di marzo, dal 12 al 16 a Bardonecchia, in Val di Susa, località che ospiterà le discipline di sci alpino, snowboard e, per la prima volta, la danza sportiva. Presenti 34 team da tutta Italia che, alla cerimonia di apertura, hanno preceduto l'ingresso delle bandiere e il momento protocollare più atteso, l'arrivo della torcia partita lo scorso 12 dicembre da Udine. Presente anche il team di Azad Biella, che ha visto impegnati 11 atleti nelle discipline delle ciaspole e dello scedifondo, guidati da Davide Crispo, capo delegazione, e dai tecnici Gianfranco Preziosa, Laura Rondolotto e Martino Borione. Gli atleti biellesi si sono distinti, in particolare nelle ciaspole hanno ottenuto questi risultati. Roberto Penzo, Marco Conti, Marco Capra, Paola Maffeo, Marco Bonadeo, Simone Perona hanno tutti conquistato una serie di ori, argenti e bronzi, mentre nello scedifondo i cinque atleti coinvolti si sono piazzati così. Luciano Maino, oro nei 100 metri e un argento nei 50, oro anche per Roberto Cadoni, sempre nei 50, con un bronzo nei 100, Francesco Majorano e Paolo Massazza. Chiude Andrea Sefusatti con un oro nella 5 chilometri. Sono sempre molto soddisfatto della partecipazione dei nostri atleti ai giochi invernali, che rappresentano gare particolarmente dure, anche a causa delle condizioni atmosferiche, spiega Charlie Cremonte, presidente di Asad Biella. I nostri ragazzi si sono distinti non solo per le medaglie vinte, ma per la forza di volontà e per la voglia di stare insieme, diventando di fatto loro stessi i primi agenti di integrazione e inclusione. Un pensiero di ringraziamento va, come sempre in queste occasioni, ai nostri tecnici e ai volontari che rendono possibili questi eventi e alla comunità che ci accoglie e tifa per i ragazzi con grande spirito di partecipazione. Commenta anche il capodelegazione Davide Crispo. Siamo partiti in direzione Sappada con i nostri 11 atleti, pronti per legare e per sfidare le intemperie. Freddo e gelo però non hanno fermato i ragazzi, che si sono battuti sulle piste, portando a casa un bel bottino di medaglie. Gli impegni sono iniziati con un bel meno 12 sul termometro, ma un cielo limpido. Il pubblico scatenato ci ha sostenuto dal primo momento dell'accensione della fiaccola fino alla festa in piazza. Non è stato facile per i ragazzi che hanno dovuto affrontare pioggia e neve sulle piste, portando a casa qualche importante medaglia. La giornata di gare si è poi conclusa con la festa di chiusura dei giochi con la fiaccolata, la musica e i balli. Domenica, sempre col termometro a meno 12, si è svolta l'ultima gara per Andrea Seffusatti. Cinque giorni intensi, belli, pieni di sport e divertimento. Dopo due anni di pausa a causa Covid, i ragazzi erano carichi e vogliosi di tornare a fare sport. Il freddo non li ha fermati, un'esperienza bellissima che mancava davvero tanto.